Quasi un chilo e due etti di hashish divisi in panetti, 210 grammi di marijuana, 8 grammi di cocaina, 3 bilancini di precisione, più materiale vario per il convenzionamento di dosi e 700 euro provento di spaccio. E quanto hanno rinvenuti i carabinieri di Rosà e del nucleo radiomobile di Bassano nelle abitazioni a Tez sul Brenta di due uomini incensurati che sono stati arrestati. I inizialmente fermati due soggetti di 35 e 43 anni a bordo di un furgone con fare sospetto. Ad una prima perquisizione personale i militari avevano rinvenuto e sequestrato 70 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana e quasi 400 euro provento di spaccio. Per questo motivo i carabinieri avevano deciso di perquisire anche l'abitazione dei due arrestati che attualmente sono ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida da parte del Tribunale di Vicenza.